Signori di colore africani che possono anche un po' infatti dire magari se ne fregano meno di me, io proprio me ne sbatto, ne arrivino quanto mi vogliono. Poi non li posso chiamare omosensuali perché è un termine medico e io non sono neanche infermiere, io li chiamo ricchioni. Metto in piedi tutto sto casino per una scopata mi sembra questo. E traccia la croce sul Movimento 5 Stelle e fa così. Milano è un rifaio di finocchi. Se trovi un negretto non lo puoi chiamare negretto, lo devi chiamare Nerino. E tutto quello che mi serve ce l'ho già. Un aggettivo per consiglia. Mutevole. Inquietante. Nelson Mandela. Corciuto. Eroico. Hitler. Se è vero ma giusto. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Guardate, se lei insiste, io me ne vado perché a me non me ne frega niente di parlare con lei. Me ne vado subito a casa a dormire che è più piacevole che parlare con te. Mi faccia dei nomi, dei nomi di persone importanti che vorresti al governo. Hitler. Questa abitudine maldestra di interrompere uno che sta parlando e sta cercando di esprimere un concetto mi sembra veramente disdicevole. Va bene, comunque. Ma io il giorno dopo non l'ho denunciata, le ho mandato dei fiori con i pochi soldi che avevo intanto.